Ciao ragazzi, oggi come sempre sono qui perché vorrei realizzare un'illustrazione Mi piacerebbe che fosse a tema marino Sembra molto divertente, però non lo so, ma anche un po' l'ispirazione Oh, grazie Beh, brindiamo all'ispirazione Ma certo, so esattamente cosa devo fare E vedrete, sarà qualcosa di sorprendente Ma prima di dirvi nel dettaglio che cosa sto realizzando Si è fatta un po' una certa Io c'errei il treno per andare al Comic-Con Quindi ve lo racconto mentre vado Arrivata nella fiera mi sono subito fiondata nell'area Crodino Dove c'erano tantissime persone ad aspettarci C'era anche Federico Cecchin che mentre stavo disegnando Mi stava a sua volta disegnando E quindi ho continuato la mia illustrazione Che risponde alla domanda Come sarebbe l'ecosistema marino se fosse completamente sommerso in realtà di Crodino? Siete curiosi di vedere il risultato finale? Ma c'è anche un'altra cosa che voglio mostrarvi Volete vedere cosa ha realizzato Federico? Dici che mi somiglia C'è anche un'altra cosa che voglio mostrarvi C'è anche un'altra cosa che voglio mostrarvi